Giovanissimi, ma non per questo da sottovalutare. L'episodio risale a qualche giorno fa, in pieno centro Amalo. Protagonista un gruppetto di adolescenti che già da qualche tempo insidiava i passanti e che ora ha alzato il tiro. Con la scusa di chiedere informazioni stradali, il gruppetto avrebbe avvicinato due ragazzini. Poi ha chiesto, infine preteso, del denaro. Solo l'intervento di un passante li ha fatti desistere. Sull'accaduto indaga la polizia locale Amalo. Le baby gang hanno provocato più di qualche danno all'arredo urbano, tanto che di recente il comune ha speso 14.000 euro per le nuove attrezzature.